Pressione fiscale alle stelle, più 22,6% in un anno. Valutazione dei rischi, c'è la proroga. Addio a Rita Levi Montalcini, pordenonese da adozione e amica degli artigiani. Un grazie agli artigiani storici della provincia. L'ANAP lancia la festa dei nonni e nipoti. Bentornati e buon anno dal telegiornale di Confartigianato, Pordenone. Per il 74% delle imprese, negli ultimi 12 mesi, la pressione fiscale è cresciuta in media del 22,6%, a dirlo è un'indagine di Confartigianato tra le aziende italiane. Il sondaggio, commenta Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato, Pordenone, ha messo in luce anche le pesanti conseguenze della crescita della pressione fiscale. Il 33% degli imprenditori è stato costretto a ritardare il pagamento dei propri fornitori, mentre il 29% ha dovuto rinunciare a fare investimenti in azienda. Per il 26% delle imprese, l'accresciuto peso del fisco ha causato ritardi nel pagamento di alcune imposte. Effetti negativi anche sull'occupazione. Il 16% delle imprese ha rinunciato ad assumere personale e il 14% ha dovuto licenziare i dipendenti o ricorrere agli ammortizzatori sociali. In più, per fare il proprio dovere di contribuente, il 58% degli intervistati ha dovuto ricorrere a prestiti bancari o è stato costretto a chiedere al fisco dilazioni di pagamento. Per non parlare di qualche decina di migliaia di imprenditori che non hanno potuto pagare le imposte per mancanza di liquidità. Ad opprimere i piccoli imprenditori italiani non è solo la quantità di tasse, ma anche la complessità per pagarle. Il sondaggio ha rilevato che per il 57% degli intervistati sono aumentati anche gli adempimenti burocratici in campo fiscale. Soltanto il 2% ha indicato una diminuzione. Una rilevazione che conferma quanto denunciamo da tempo a proposito dell'impennata della pressione fiscale sul sistema produttivo, prosegue Pascolo, pressione rilevabile dalla crescita delle entrate fiscali nel 2012, che hanno raggiunto il 44,7% del PIL con un aumento di 2,2 punti in un solo anno. Se vogliamo ritrovare la strada per uscire dalla crisi, conclude Pascolo, è indispensabile intervenire per ridurre la pressione fiscale sulle imprese. E accogliendo le richieste di confartigianato, il Governo ha prorogato al 30 giugno la validità delle autocertificazioni dei rischi per le piccole aziende. La norma è stata inserita nel Decreto Stabilità ed era stata più volte sollecitata da confartigianato ed è quella che imponeva a tutte le imprese di effettuare la valutazione dei rischi in luogo dell'autocertificazione entro la fine dello scorso anno. Adempimento impossibile da rispettare, ricorda Silvano Pascolo, presidente di confartigianato Pordenone, tanto che avevamo espressamente richiesto al Governo di rimodulare quella scadenza. E a ridosso del 31 dicembre è arrivata la proroga, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza. Le imprese sotto i 10 lavoratori potranno dunque avvalersi dell'autocertificazione fino alla fine di giugno 2013. Solo dal 1 luglio sarà obbligatorio per tutti dotarsi di documento di valutazione dei rischi. Le aziende sotto i 10 lavoratori e quelle fino a 50 potranno elaborare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure semplificate. Nulla cambia per le aziende sopra i 50 lavoratori, che non sono coinvolte dalle recenti modifiche normative. E a 103 anni si è spenta Rita Levi Montalcini, scienziata premio Nobel per la medicina, ma anche cittadina onoraria di Pordenone, grazie a confartigianato Pordenone e all'indimenticabile segretario Maurizio Lucchetta, che invitarono in città questa piccola grande donna, offrendo anche una sede per la sua associazione. Credo di poter dire che anche il mondo artigiano ha perso molto con la scomparsa di Rita Levi Montalcini, che è stata amica della nostra associazione e degli artigiani. Il cordoglio per la morte della scienziata è stato espresso dal presidente di confartigianato Pordenone Silvano Pascolo, che ha ricordato la figura di questa piccola grande donna, dallo spirito indomabile, che ha lavorato praticamente fino agli ultimi istanti di vita. A Pordenone Rita Levi Montalcini venne più volte, grazie a Maurizio Lucchetta, che la invitò in occasione di un convegno sulla festa della donna. Fu sempre lui, insieme al presidente della Camera di Commercio, Augusto Antonucci, a gettare le basi perché Pordenone ospitasse una sede dell'associazione da lei fondata a sostegno dei giovani. Grazie al legame che si creò tra Pordenone e la scienziata, a Rita Levi Montalcini venne concessa la cittadinanza onoraria nel 2002. Lucchetta amava moltissimo questa grande donna, ricorda ancora Pascolo, esempio di tenacia e determinazione, forza e grazia. Una donna esempio per altre donne, aveva sottolineato Maria Pasini, all'epoca presidente delle donne artigiane pordenonesi e commissaria regionale delle pari opportunità nel suo discorso di saluto al premio Nobel. E' un piccolo segno di riconoscenza da parte dell'associazione ad alcuni storici artigiani che hanno fatto la storia di questa provincia. Un attestato di merito e una targa sono stati consegnati dal presidente Silvano Pascolo a Denzo Michelazzi, titolare della omonima azienda di impiantistica, ed anche a Oscar Camerotto, oggi in pensione. E' il nostro modo di rendere omaggio a questi imprenditori artigiani, che tanto hanno fatto sia per la città che per l'economia del territorio, formando generazioni di laboratori e anche di altri imprenditori. In occasione dei 40 anni dell'ANAP, l'Associazione Artigiani e Pensionati di Confartigianato, ecco una nuova iniziativa. A giugno sarà infatti organizzata la manifestazione Nonni e Nipoti, un soggiorno di una settimana al Garden Club di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Il periodo è quello del 15-22 giugno 2013, sette giorni, otto notti, e la formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti ad un prezzo vantaggioso. La quota di adesione è di 510 euro a persone in camera doppia. Sono previsti supplementi per le camere singole e riduzioni per il terzo e quarto letto. Il bambino in culla verrà ospitato gratuitamente. Per i bambini da 3 a 13 anni richiesto un contributo di 120 euro. Le camere disponibili sono 200 e verranno assegnate in ordine di prenotazione entro il 31 gennaio. Da qui la necessità, se interessati, di darne comunicazione quanto prima. Ulteriori informazioni sono disponibili in sede dell'Associazione in via dell'Artigliere a Pordenone, dove si raccolgono le adesioni. Ed è tutto per il telegiornale. A risentirci, alla prossima edizione. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie per l'attenzione. 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 Grazie a tutti.